Pienone delle grandi occasioni ieri pomeriggio all'Ossola Shopping Center di Crevola d'Ossola per l'annuale premiazione dei campioni provinciali dell'Atletica Leggera del Verbano Cusiossola. Nelle vesti di cerimoniere Marco Longodorni, delegato Coni, che dopo aver portato il suo saluto ha ceduto la parola alla consigliere provinciale Marco Bossi, il quale ha ricordato come l'amministrazione provinciale, seppur nelle notte con difficili condizioni finanziarie, si avvicina al mondo dello sport. È stata poi la volta del presidente Fidal Piemonte, Rosi Boaglio, la quale ha ricordato l'importanza del lavoro svolto dalle società e dei loro tecnici, elogiando gli importanti risultati raggiunti nel 2019 dagli atleti della provincia azzurra. Le ha fatto eco il presidente provinciale Luigi Spadone, riconoscendo i meriti del lavoro di squadra ed evidenziando come la recente medaglia d'oro ai mondiali in Patagonia di Giovanna Selva sia la punta di un iceberg che senza la sua base non avrebbe potuto emergere. presenti anche il consigliere regionale Mauro Gavinelli, i componenti del comitato provinciale Mario Generelli, Raffaele Baccaglio, Egidio Lissandrelli, il fiduciario tecnico provinciale Vittorio Andorno ed il fiduciario del gruppo giudici gare per il verbano Cusiostola, Sergio Greggio. Premiati oltre 170 atleti che si sono distinti nelle varie specialità e categorie davanti ad un pubblico di oltre 250 persone che ha potuto apprezzare un evento sempre più importante e significativo per il mondo dello sport locale e ovviamente per l'atletica in particolare.